Musica Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Via libera dal Consiglio regionale ad una proposta di legge al Parlamento per il sostegno finanziario al Sistema Sanitario Nazionale. L'eredità dell'archeologo Gianfrancesco Gamurrini, convegno ad Arezzo per il centenario della morte. Con 27 voti a favore e 11 contrari, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere sul sostegno finanziario al Sistema Sanitario Nazionale a decorrere dal 2023. Favorevoli PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. A dire no alla PDL, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. L'atto è frutto dell'unificazione di due diverse proposte di legge, una presentata dalla Giunta regionale e una da numerosi consiglieri del gruppo PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. La sanità è la parte fondamentale dell'impegno sociale dello Stato. L'articolo 32 della Costituzione ci dice che la salute è un diritto fondamentale di ogni individuo e un interesse per la collettività. Non può essere quindi ogni anno oggetto di una contrattazione fra Stato e singole regioni. La quota parte di risorse che dal Fondo Sanitario Nazionale diventano Fondo Sanitario Regionale. Se fissiamo un criterio oggettivo legato alla capacità di produzione del Paese mi sembra il modo migliore. Dire che il 7,5% del PIL ogni anno è destinato alla sanità e alle sue articolazioni a livello nazionale e regionale mi sembra il modo più corretto, più trasparente e più giusto. Per questo la proposta di legge. Noi abbiamo voluto presentare questa proposta di legge per mandare un messaggio chiaro alle cittadine e ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di più sanità pubblica. Per avere bisogno di più sanità pubblica è necessario che il Governo finanzi maggiormente le regioni. Certo, noi possiamo migliorare il Governo della sanità regionale ma oggi con questa proposta di legge chiediamo che almeno il 7,5% del prodotto interno lordo sia destinato al Fondo Sanitario Nazionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi con queste risorse in più possiamo lavorare per migliorare i servizi, ridurre liste d'attesa, possiamo lavorare per offrire una sanità di prossimità migliore, insomma possiamo offrire ai cittadini un servizio sanitario migliore, possiamo costruire le condizioni per cui il diritto alla salute sia uguale dal più piccolo borgo della regione fino al comune capoluogo. Inoltre in questa proposta, in questa legge che mandiamo al Parlamento, noi chiediamo di finanziare di più, di mettere più risorse per sostenere il personale sanitario. Noi abbiamo bisogno di più personale sanitario e abbiamo bisogno anche che le retribuzioni siano migliori rispetto a quelle odierne. Insomma, è una legge di civiltà, è stata approvata già in altre regioni, tra cui il Piemonte che è a guida del centro-destra. Ci auguriamo che il Parlamento fatte proprie queste proposte di leggi le incardini e ci consenta di poter avere una discussione a livello nazionale e di dare quelle risposte che i cittadini che vogliono più sanità pubblica ci chiedono da tempo. Siamo molto soddisfatti per l'approvazione di questa proposta di legge che abbiamo fatto per mettere in sicurezza la sanità pubblica e quindi la sanità universale a tutela della salute di tutti i cittadini, tenendo anche conto dell'indice di inflazione e tenendo anche conto dell'anzianità della popolazione. Abbiamo fatto questa proposta in sintonia con altre regioni dove già la proposta di legge è stata o sarà approvata. Dispiace che nell'ambito della votazione in Consiglio regionale della Toscana la minoranza di centro-destra si sia voluta distinguere e ha votato contro tenendo più di conto di quelle che sono le impostazioni e le ragioni di partito che non quelle delle esigenze di salute di tutti i toscani e di tutte le toscane. Cosa che invece in Piemonte hanno superato perché pur essendo una regione governata a centro-destra questa legge è stata approvata all'unanimità. Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del Messe Sanitario. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto richiedere l'utilizzo di queste risorse. Avremmo potuto riterizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità. È evidente che non lo si è voluto fare, però con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello dei servizi sociali assistenziali. Detto questo noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge. Ovviamente lo votiamo, siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spese meglio, vanno riorganizzati, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria per riorganizzare meglio il territorio, spendere ancora meglio le risorse, organizzare e derogare migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. Non risparmia critiche alla maggioranza il consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci. Non siete credibili, ha dichiarato il consigliere rivolgendosi ai colleghi del PD, perché con questa proposta di legge vi sostituite al Governo nazionale. Non sono credibili perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente che questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il Governo. Il Governo è il Governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi. Il Governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che rispondere. Questa la replica di Petrucci al consigliere PD Ceccarelli che aveva invitato i consiglieri dell'opposizione ad illustrare le proprie ragioni a quelli del Piemonte, governato dal centro-destra, che hanno approvato la legge all'unanimità. Io non so cosa sia successo in Piemonte, l'hanno fatto riferimento più volte, so cosa succede in Toscana, la Toscana è stravolta agli scandali in sanità, la Toscana ha un proliferare continuo di primari e primariati, la Toscana non riesce a spendere i soldi per accorciare le liste d'attesa, la Toscana ha dei linguaggi digitali che sono differenti da una zona all'altra della regione senza che gli ospedali possano comunicare tra loro. Io penso che prima di chiedere più soldi si debba spendere meglio, molto meglio, i tantissimi soldi, oltre 8 miliardi di euro che arrivano alla regione Toscana per la spesa sanitaria e che vengono spesi molto male. Due le misure urgenti da mettere in atto secondo il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Questa proposta di legge si dice che il sistema sanitario pubblico in Toscana, ma in Italia in generale, è in pericolo e servono due misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, che ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quelli europei bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici, infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici, ma anche quando li troviamo oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, vent'anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici, dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. Siamo la prima regione per medici e siamo la quarta regione per infermieri dipendenti pubblici. Questo vuol dire che nelle altre regioni c'è molto privato e quindi questa norma colpisce ovviamente prima di tutto le regioni che hanno sistemi pubblici molto forti e sviluppati. È importante capire queste risorse come vengono spese, quindi una programmazione, una propriatezza della spesa è fondamentale perché se no diventa un pozzo senza fondo, cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. Conseguentemente anche soltanto valutando ciò che è stato, con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno di tendenziale, nel 2024-2026 con Schillace e quindi il governo attuale avremo uno 0,6 in più, questo a titoli diciamo reali. Poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto, ma imporre il 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio perché comunque sia il 7,5% del PIL di quale PIL? Perché era il 7%, perché economicamente eravamo andati totalmente in basso, quindi ovviamente con un PIL basso a parità di spese di investimento era aumentata la percentuale, quindi è un qualche cosa che non ha senso. E poi una proposta di legge deve essere assolutamente avere un corrispettivo come vengono coperti quei soldi e parlare della lotta all'evasione è il sesso degli angeli, cioè nel senso è vero, però quanto è la cifra reale che riusciamo a recuperare dalla lotta all'evasione? Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale, ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da Gimbe a riguardo. Negli ultimi dieci anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti, quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore che è quello della proposta di legge del disegno di legno sulla proprietà della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere pubblica che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera. Cento anni fa se ne andava una delle figure più importanti tra il XIX e il XX secolo per la cultura e la storia, non soltanto a retina. Per ricordare Gianfrancesco Gamurrini, l'Accademia Petrarca organizza ad Arezzo un convegno in programma dal 4 al 6 dicembre alla Casa Petrarca e al Museo Archeologico Nazionale. Archeologo, etruscologo, epigrafista, Gamurrini rivestì importanti cariche a livello cittadino, regionale e statale. All'età di 27 anni fu chiamato all'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma che era gestito dall'impero prussiano e il cui erede oggi è l'Istituto Archeologico Germanico. È uno dei massimi riferimenti per la storia antica, per l'archeologia mondiale. Quindi lui già in età giovanissima, attraverso due studiosi che aveva conosciuto abbastanza casualmente ad Arezzo, era stato associato a questo importante istituto. Poi c'è anche l'aspetto che riguarda più propriamente l'Accademia, non poteva esimersi dal celebrare questa ricorrenza perché Gamurrini è stato presidente dell'Accademia per 38 anni, fino alla morte. Quindi è stato un personaggio fondamentale, ha traghettato l'Accademia da prima della Prima Guerra Mondiale al difficilissimo dopoguerra, sempre con grande accortezza, saggezza, dettata anche dall'età dell'esperienza. Gianfrancesco Gamurrini è stato inserito nel programma delle celebrazioni delle personalità storiche della Toscana. Sono molto soddisfatto che la figura di Gianfrancesco Gamurrini, direi l'uomo di cultura maggior spessore per Arezzo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sia stato ricompreso nelle celebrazioni dei grandi toscani. Gianfrancesco Gamurrini meritava di essere ricordato. È stato rettore della Fraternità dei Laici, è stato per 38 anni presidente dell'Accademia Petrarca, è stato il pioniere della tutela dei beni archeologici, quando ancora una legge organica in materia non c'era. Ma c'era, lasciatemi dire, e noi in questa consigliatura siamo molto sensibili al tema, è stato anche un precursore della Toscana diffusa perché preconizzava di avere dei musei per le comunità locali che potessero essere di aiuto per ritessere la storia, così come egli ebbe modo di scrivere. Possiamo ricordare tanti musei che si legano alla figura di Gianfrancesco Gamurrini, Chiusi, Orvieto, Fiesole, Viterbo e potrei proseguire. E quindi sicuramente meritava di essere ricompreso tra i grandi toscani. Noi l'abbiamo fatto e siamo molto soddisfatti che questo sia avvenuto. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, cronache e commenti torna la prossima settimana.